ben volentieri anche noi tributiamo l'ode al proposito testè deliberato da codesto comitato di fondare in italia una università cattolica e precisamente a milano in una ferventissima città dove si sviluppa con tanto impulso l'industria e dove più ferve il lavoro affinché ivi si esercitino pure con una lacrità maggiore le energie dello spirito e dell'ingegno grazie a tutti 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 grazie a tutti